Buonasera amici, scusatemi, sono ancora sconvolto, oggi ho fatto 300 chilometri con la mia cucciola, ho fatto un bel giretto e adesso credo sia arrivato il momento di ritirarsi. Vi auguriamo un buon sabato, io e la mia cucciola, vero amore? Di la verità, saluta gli amici, ciao ragazzi. Secondo voi come potevo concludere la mia giornata dopo aver trascorso tutto il giorno in moto? La concludiamo con una bella grigliata dove andiamo a cuocere questa sera delle bombette panate, dei figatini e dell'ottima salsiccia. Stasera senza maionese ragazzi, quanto fumo, aggiungiamo un po' di paprika sui nostri figatini. Ecco ragazzi questo è il risultato di questo splendido spiedino di figatini con la paprika, adesso assaggiamo. Stupendo ragazzi, assaggiamo anche una bombetta panata, vedete? Scusate. Ci sta il mio cane Manoè che sta col fiato sul collo, che vorrebbe la bombetta, la nave. Alla salute vostra vado di raffo come sempre, da buon Tarantino. Ciao ragazzi, di nuovo buon sabato e un bacio.